Contrastare le malattie epatiche, questo lo scopo di un accordo siglato tra l'IRCS De Bellis di Castellanagrotte e la Fondazione Italiana Fegato di Trieste. Programmi di ricerca e studi clinici, così si mettono insieme la Fondazione Italiana Fegato di Trieste e l'Istituto Nazionale di Gastroenterologia De Bellis di Castellanagrotte che hanno firmato un accordo di collaborazione scientifica. Cercare di trovare un rimedio ha una patologia ormai molto diffusa nei paesi occidentali che è quella della steatosepatica. Questa malattia tutt'oggi non vede la presenza di un farmaco in grado di contrastarla e il metodo più efficace per la lotta è quello di un appropriato stile di vita, fatto quindi da un'alimentazione salutistica che rispetta quindi i canoni della dieta mediterranea e una propria attività fisica. Ora, le due istituzioni vogliono quindi collaborare in questo campo da un punto di vista sia di ricerca, con protocolli di ricerca preclinica, sia avvalendosi anche dell'attività ben nota sul campo dell'Istituto De Bellis di seguire pazienti, quindi di poter effettuare degli studi clinici in tal senso. Quello che si può dire è che non ne fa la forza, nel senso che noi ci troviamo di fronte a due evenienze uniche, almeno nel nostro paese. Uno, un IRCS che si occupa esclusivamente di gastroenterologia, nel nostro caso di fegato, e dall'altra una fondazione, una ONLUS, che si occupa esclusivamente di ricerca e trattamento delle malattie di fegato. Se poi noi consideriamo il livello della ricerca fatta al De Bellis e il livello di ricerca fatta alla fondazione, alcune ricerche comuni si stanno già facendo, questo dimostra come ancora una volta, nella ottimizzazione delle risorse, questa collaborazione diventa veramente vincente. Ed è vincente per il sistema Italia. Un programma molto fitto che apre possibilità di crescita ad entrambe le istituzioni, eccellenze nei rispettivi territori per quanto riguarda le malattie del fegato. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.